Ciao a tutti, dentro ognuno di noi esistono delle possibilità, le possibilità di stare bene, le possibilità di guarire, di superare delle malattie, di superare delle situazioni negative. Esiste un potere, il potere dell'intenzione ed esistono enormi risorse dentro di noi che devono solo essere scoperte, devono solo essere attivate e ci permettono di raggiungere delle cose che neanche pensavamo, neanche la nostra più fervida immaginazione pensava di poter raggiungere, pensava di poter ottenere. E noi possiamo attivare queste energie mettendo l'intenzione. La cosa fondamentale è l'intenzione. L'intenzione che cos'è? È la focalizzazione su un pensiero, la focalizzazione su un desiderio, il forte desiderio di raggiungere un obiettivo per il nostro bene. Perché dentro di noi ci sono queste risorse che sono finalizzate a sviluppare la capacità di superare le situazioni di negatività, soprattutto negatività fisica ma anche negatività mentale. Allora possiamo utilizzare delle frasi, ma le frasi non vanno ripetute così tanto per dire qualche cosa. Serve, come dire, l'intenzione, serve e devono essere quasi come un atto rituale, un atto solenne, devono essere pronunciate con solennità. Dobbiamo prenderci il nostro tempo, metterci in un luogo tranquillo e esprimere tutta l'intenzione che abbiamo. Perché questa intenzione è la forza che ci permetterà di raggiungere ciò che vogliamo raggiungere. Quali sono queste frasi? Allora, la prima è questa. Permetto al mio corpo di guarire definitivamente da questo male con tutte le sue cause e le sue conseguenze. Ovviamente, dove ho messo questo male, ognuno mette quello che ha. Lo stesso discorso è, permetto alla mia mente di guarire definitivamente da questo male con tutte le sue cause e le sue conseguenze. In questo caso è un discorso mentale. Ce ne sono poi altre per eliminare le interferenze negative. Spesso abbiamo delle interferenze negative che rovinano un po' la nostra vita. Ecco qua una frase molto interessante. Anche in questo caso, il raggiungimento di, del mio obiettivo. Anche in questo caso, il raggiungimento di, uno mette l'obiettivo che veramente ha. Io adesso ho messo una cosa generica, di raggiungimento del mio obiettivo. Ma in generale, bisogna mettere quello che vogliamo ottenere. Ecco, questa è un'altra frase che ci permette di, invece di focalizzarci sul raggiungimento positivo di un obiettivo. Bene, per questo video è tutto. Iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E iscrivetevi al mio nuovo canale. Felicità e benessere di cui vi posto il link in descrizione. Ciao a tutti. Ciao a tutti.